Abbiamo colto questa occasione dell'invito della Turchia che si deve preparare al loro girone di qualificazione e quindi giocheremo due partite contro la Turchia e una contro la Macedonia. Sfruttiamo al massimo questa situazione per preparare in questa settimana dedicata agli impegni internazionali. Noi ci dobbiamo preparare per gennaio per anche noi le qualificazioni ai playoff ai mondiali. Qualche novità nelle convocazioni ma non troppo perché ormai il gruppo è più o meno quello? Sì, il gruppo è quello. Chiaramente c'è l'inserimento di Kasha che all'ultimo ha sostituito Argentin che è impegnato per motivi di lavoro per cui era da tempo che pensavamo a visionarlo come difensore soprattutto. Siccome sta facendo molto bene in campionato abbiamo deciso di portarlo fin d'ora. Direi che anche Marco Mengon è l'aggregato ultimo di questa spedizione perché sta dimostrando con il Montpellier nel suo ruolo di centrale di essere una valida alternativa. Uno degli obiettivi, al di là degli obiettivi tattici è quello di cercare tre giocatori per ruolo perché appunto l'impegno di queste qualificazioni saranno di tre partite in tre giorni per cui avere delle rotazioni sarà molto importante. L'ultimo qui a Roma è iniziato intanto questo nuovo lavoro con l'area performance della federazione guidata dal professor Stefano Dottavio. Non solo lui però di che cosa si tratta? Beh questo è un gruppo che dovrà curare appunto il miglioramento fisico degli atleti a livello individuale prima che collettivo di squadra per cui sono partiti di fatto oggi con dei test, proseguiranno lunedì con i test dei 2002-2003. Si continuerà cercando di fare un incontro con gli allenatori e preparatori atletici delle società soprattutto di A1 ma allargato a tutti i tecnici d'Italia per far sì che ci sia un rapporto di collaborazione e si possa condividere un certo tipo di lavoro. Molto professionali sicuramente ce lo aspettavamo, ci aspettiamo che ci possa dare a noi della palla a mano un tocco di professionalità che a noi serve.